Circa 150 persone sono state già tratte in salvo a bordo della nave che ha avuto l'incidente e ce ne sono circa 300. Adesso la nave è stata agganciata da un rimorchiatore di Brindisi però rimangono delle difficoltà e il cavo si è rotto già un paio di volte. Lo stanno riagganciando nuovamente questo perché il mare è molto forte, forza otto e va in peggioramento la situazione. Alcuni feriti sono stati portati tramite elicottero al terrino di Brindisi ma per fortuna sono stati dimessi quasi subito perché si trattava di persone che avevano un grave stato di perfigerazione intuitivo essendo da tante ore all'aperto su una nave in balia dei Marossi.